Considero Logiek una buonissima squadra, sta facendo un campionato straordinario e secondo me è l'allenatore più bravo del campionato in questo momento, ha dimostrato veramente tanto, quindi gli faccio i miei complimenti, sono più che meritati. Faccio anche i complimenti ai miei ragazzi per quello che stanno facendo nelle ultime partite e per noi è una gara, l'ennesima gara importante per come le viviamo noi le partite. Sappiamo che dovremo affrontare un avversario difficile che cercherà di venire in casa nostra per proseguire il suo sogno che è quello di vincere il campionato e quindi dovremo fare molta attenzione al loro modo di stare in campo, al loro modo di giocare, al tempo stesso dovremo cercare anche noi di fare la nostra partita con le nostre qualità, le qualità che i ragazzi hanno dimostrato di avere nell'ultimo periodo, cercando di migliorare in alcuni aspetti, in alcune fasi di gioco, cercando di chiudere tutti gli spazi, cercando di limitare dove loro sono molto bravi e voglio che ci giochiamo questa partita anche con la tranquillità e la leggerezza mentale perché poi è vero le partite sono importanti tutte, le ultime partite del campionato forse lo sono ancora di più, l'importante secondo me è arrivare pronti e sapere quello che dobbiamo fare. Però credo che non sia una partita tra mezz'anni contro Bielizza, c'è molto rispetto, il rispetto è molto condiviso e reciproco, noi sappiamo che abbiamo davanti a noi un percorso da continuare, abbiamo davanti a noi da portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato insieme due mesi e mezzo fa, abbiamo molto entusiasmo nel farlo, usiamo l'entusiasmo per lavorare, i ragazzi ce l'hanno tutti i giorni durante l'allenamento, quindi le cose positive sono veramente tante, al di là dei risultati, bisogna sapere gestirli anche queste partite secondo me, perché sono partiti in cui devi ridurre gli errori e devi cercare magari di sfruttare quelli che possono essere le difficoltà dell'avversario, il saper leggere magari la partita ancora in alcuni momenti ci manca e mi auguro che dalla prossima gara con l'Oziek possiamo fare un passo in avanti anche sotto questo punto di vista. Abbiamo analizzato tutte le ultime partite dell'Oziek, è chiaro che con l'arrivo di Santini nel mercato di gennaio la squadra ha cambiato, si appoggia molto su di lui e su di Miers davanti, giocano con due punti e anche loro hanno giocato tante partite con tre giocatori sulla prima linea difensiva. Indipendentemente dal modulo di giochi, dai numeri, dai sistemi che normalmente tengono a ridurre forse un po' troppo quelle che sono poi le idee di gioco, le qualità individuali, io credo che loro siano veramente molto bravi a fare le due fasi di gioco, sia il possesso che non il possesso. Hanno due attaccanti davanti che sono bravi ad allungarti la squadra, che fanno reparto da solo e hanno dei cittocampisti altrettanto bravi ad accompagnare l'azione, essere sempre pronti a rimorchiare a riempire l'area dei rigori. Dietro sono molto solidi, riescono a giocare anche a uomo, anche a campo aperto e noi a livello strategico dovremo secondo me trovare gli spazi in cui poterci inserire e sfruttare quelle che sono anche le nostre qualità. Io credo che nelle ultime partite abbiamo migliorato l'aspetto della fase di non possesso palla, rischiamo poco dietro e normalmente siamo più pericolosi dei nostri avversari davanti, indipendentemente dai gol che riusciamo a fare o a realizzare, però questo indice qui noi stiamo dando molta importanza perché essere solidi, compatti dietro dà più tranquillità e sicurezza anche quando abbiamo la palla. Siamo consapevoli che con le qualità individuali che abbiamo davanti con i nostri giocatori offensivi le occasioni da gol le riusciamo a creare e quando riusciamo a creare le occasioni da gol il gol riusciamo anche a farlo. Oggi l'equilibrio ci dice questo e di conseguenza stiamo cercando comunque di migliorare anche quelle che sono le cose che possiamo migliorare. Io credo che ci siano tante cose ancora su cui possiamo lavorare ma la cosa che mi rende tranquillo e sereno oggi è vedere come i ragazzi arrivano all'allenamento con lo spirito in cui iniziano l'allenamento. È veramente difficile, è raro che io debba alzare l'attenzione, la concentrazione o alzare la voce per chiedere a loro magari di essere presenti, di credere in quello che stanno facendo o di dare di più perché in questo momento quello che danno durante l'allenamento, durante tutti i momenti in cui i ragazzi sono insieme è bello e secondo me le squadre si costruiscono in campo durante le partite, si costruiscono durante l'allenamento e tutti i momenti in cui vedo che i ragazzi sono insieme. Il modo in cui stanno insieme ti fa capire che è una squadra che è molto unita, che è un bel gruppo, che è un bel spirito. C'è un'attività, è stata un'attività, che in questo momento siamo gli stessi stessi solitari, è proprio il primo. All'heci? Ci siamo qui tra i attimo che SSMU è molto ottimo nel giallo. Ed abbiamo scoperta col'ho che sia meglio, qual è gli aggressivi che è in essenza, in cui abbiamo bisogno. C'è anche i cose, e conti ci sono gli stessi solitari. E' la città che c'è! che si vede che si vede la squadra, si vede la squadra, si vede la squadra. Il nostro cilio è la giusta in questa squadra, non è così.